E' questo il cinema? Sì, proiettano King Kong. La versione del 1933. Favoloso! Il gorilla che si tromba la bionda. L'avevi studiata questa? È fantastico! Cadi a pennello! I miei desideri esauditi! Perché? Abbiamo l'idea di entrare. Beh, direi di sì. Qui fuori cosa possiamo fare? Avevo voglia di popcorn. Sirenetta, ti piacciono i popcorn. Vedi cosa c'è scritto? Che i cani non possono entrare. Quindi, tu aspetti fuori. Ti è chiaro il concetto? Nessuno ha pietà di un povero cane abbandonato sulla strada. Se stai zitto, ti nascondo nella mia borsa ed entri con noi. Ma se continui ad essere molesto, ti molliamo qui a fare la guardia. Agli ordini, padrone! Allora, cinque biglietti. No, quattro. Il cane lo nascondo, non paga. Ah, giusto. Quattro biglietti. Consiglio i bagni del cinema. Sono molto confortevoli. In che senso? Nel senso che se hai dei problemi, li te li sblocchi. Sei indecente. Vuoi parlare chiaro o ti cacciamo fuori? Credo che qualcuno di voi dovrebbe farci un giro in entrambi, sia uomini che donne. Io vado dalle donne. Io dagli uomini. Una scusa per imboscarsi. Ma cosa c'è in bagno? Oh, lascia che i due piccioncini te lo dicano loro. Sei terribile! Alzati e spostati da me! Ma che maniere è? Mi sposto! Guardate! Stanno già arrivando. Hanno fatto in fretta! Dai, usciamo. Ormai qui quello che dovevamo vedere lo abbiamo già visto. Cosa? Te lo spieghiamo fuori. Usciamo prima che ci caccino in malo modo. Abbiamo già fatto abbastanza casino. È lui! È questo cane! Passiamo dalle uscite di sicurezza. Allora? Allora? C'erano degli annunci. Annunci? Sì, degli annunci di ogni tipo, ma alcuni assai interessanti. Li ho fotografati. Facci vedere! Sì, certo. Chi è Musidora? Mai sentito dire. Chi? Che nome? Oh, l'ignoranza è dilagante! Nessuno di voi mortali, ma uomini con tanto di cervello, ha mai sentito parlare di Musidora? No, mai! Ecco perché... Ah, lasciamo stare. Beh, Musidora era un'attrice dei primi del Novecento che interpretò diversi film. Grandi occhi bistrati, il corpo sinuoso, avvolto in un'aderente calzamaglia di seta nera che alimenta l'immaginario collettivo, acrobata imprendibile e femme fatale. Musidora è Irma Vep, anagramma di Vampire, le cui prodezze criminali incarnano inquietudini di un'epoca, bella, colta e spregiudicata. Mmm, preparato il cane! Non te l'aspettavi, bellezza, eh? Quindi, forse c'è un collegamento con la ragazza trovata morta? Forse. Parla chiaro. Chi è quella Musidora dell'annuncio? Probabilmente la ragazza che abbiamo trovata morta. Forse sì. Una ragazza che si è data alle sembianze di questa Musidora. Perché? Perché magari semplicemente amava il teatro, il cinema, avrebbe voluto fare l'attrice o faceva l'attrice. Ma ha lasciato mail e numeri di telefono? C'è un riferimento di un video su YouTube. Potrebbe essere interessante vederlo. Ci potrebbe far capire molte cose di Musidora. отдельale culture di Musidora. Grazie a tutti. Grazie a tutti.